Siamo a Palermo e là dentro o ci sta del miele, non so se si riescono a vedere, queste sono delle api che si sono formate nell'arco di 5-6 minuti. Quello che voi potete osservare è una situazione molto palermitana perché manca un po' più di natura qui, quindi le api non sanno dove andare. Ecco, da Palermo è tutto, Luciano Cannito, apicultore Kalt.